Un terribile incidente ad Arezzo nel primo pomeriggio in via della Trionfo, un bimbo è precipitato da una finestra al terzo piano di una palazzina. Un volo di circa 10 metri, il piccolo di 4 anni di origine pakistana, è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso all'ospedale Meyer di Firenze. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa nella quale il bimbo vive con la famiglia che hanno assistito alla terribile scena, il bambino riverso a terra vicino al marciapiede. È una famiglia deliziosa, io credo che persone educate così non se ne trovano tanto, e anche il babbo del bambino era troppo, troppo bravo. Sono bravi, non era, sono bravi. Immediato l'arrivo dei mezzi di soccorso e dei sanitari dell'emergenza urgenza, sul posto anche la polizia di Stato per far piena luce sull'accaduto. Un sopralluogo è stato condotto anche dagli agenti della polizia scientifica. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava in casa con la madre che stava allattando il fratellino più piccolo e con gli zii. Ad un certo punto si sarebbe sporto dalla finestra cadendo.